Una riflessione su questo. Qual è stato l'ingrediente ambientale che ha favorito questa ripresa degli italiani, dell'economia italiana? E io mi do anche una risposta, è la vaccinazione. Il fatto che si possa lavorare con tranquillità nell'azienda, si possa andare in giro. I bambini, gli scolari, gli studenti sono tornati a scuola. Anche quello è stato un passaggio difficile, ma tutto sommato risolto con successo. E di questo voglio ringraziare veramente il Ministro Bianchi per questa preparazione, che non è stata occasionale, ma abbiamo cominciato a lavorarci praticamente dalla formazione di questo Governo. Quindi questa, secondo me, questa constatazione ci dice che questo è l'ingrediente fondamentale per la crescita, che dobbiamo proteggere questa crescita in tutti i modi possibili, che non bisogna, bisogna fare di tutto perché se per caso ci fosse una recrudescenza dell'epidemia, noi siamo pronti ad affrontarla senza ospedalizzazioni diffuse, senza la pressione sulla struttura aspedaliera che abbiamo visto nel passato.